La sezione Polizia Stradale di Ragusa, alla fine di contenere il numero degli incidenti gravi in provincia, ha messo in atto controlli per contrastare alcuni comportamenti tra i più pericolosi alla guida di un veicolo. I servizi svolti nei giorni scorsi sono stati predisposti anche a seguito di segnalazioni di cittadini blei che lamentano sia l'eccessiva velocità tenuta sulla strada Ragusa-Marina di Ragusa, sia le spericolate manovre di sorpasso che, talvolta, vengono avviate, mentre altri conducenti sono già in fase di sorpasso, verificandosi in tal modo che ben tre auto si allineano sullo stesso senso di marcia andando ad invadere la corsia opposta. Detti servizi hanno portato al ritiro in tre giorni di otto patenti sulla strada per Marina, nei confronti di sette ragusani di cui due donne e uno ciclitano, e tre sulla Ragusa-Catania nei confronti di un nisseno e di due catanesi, per sorpassi in prossimità di una curva. Inoltre sono stati predisposti dei servizi di rilevamento della velocità con il telelaser, che hanno visto complessivamente accertare 13 infrazioni con ritiro di tre patenti. In un tratto di strada dove il limite era di 70 km orario, uno ciclitano procedeva a 150 km orari e due ragusani a 120 km. Per quanto riguarda il mondo dell'autotrasporto, invece, durante un posto di controllo espletato in località di Chiara sulla strada statale 514, è stato fermato un conducente ragusano di 44 anni alla guida di un complesso vicolare formato da un trattore e da un rimorchio. Gli agenti hanno provveduto a verificare attraverso il cronotachigrafo l'attività del conducente del mezzo. Le analisi dei dati sono emersi delle anomalie. Infatti, il conducente, prima del controllo, risultava aver guidato solo per due minuti e aver percorso un chilometro, mentre aveva dichiarato poco prima di provenire da Vittoria. Era evidente che l'attività lavorativa registrata dal cronotachigrafo era parziale, in quanto da Vittoria alla statale 514 in località di Chiara vi sono circa 25 km. In considerazione di ciò, è stata effettuata una verifica più dettagliata del mezzo, rimanendo all'interno del cruscotto un congegno elettronico ed un telecomando idoneo ad alterare il funzionamento del cronotachigrafo, in modo da eludere le normative sul lavoro e sulla sicurezza stradale, che venivano sottoposti a sequestro. L'autista è stato denunciato alla Procura di Ragusa per il reato di rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e di violazione di sigilli e sanzionata inoltre con il ritiro della patente. I controlli con il telelaser proseguiranno anche nei prossimi giorni sulle strade già attenzionate sulla Modica Pozzallo. Grazie a tutti.